Ci troviamo in una casa, la casa della Caritas di Roccella Ionica, che ha aperto le porte a profughi ucraini che purtroppo sono fuggiti dalla guerra. Un'ospitalità coordinata, organizzata dalla parrocchia San Nicola di Bari, guidata da padre Francesco Carlino e dai suoi collaboratori. Un'ospitalità a 360 gradi, vedete qua accanto a me ci sono intere famiglie con bambini anche giovanissimi in tenere età. Noi come cristiani sentiamo che il loro dolore è il nostro dolore. Noi sentiamo che questo popolo tradito, massacrato, questo popolo che purtroppo sta subendo l'azione di un folle, perché questo è, sta perdendo il senso della sua libertà. È una libertà che stanno difendendo in tutti i modi con la resistenza ucraina. Ma qui ci sono le loro donne, i loro bambini, che noi abbiamo accolto perché sentiamo che in questo momento di smarrimento c'è bisogno di accendere luci. Madre Teresa di Calcutta diceva non lamentarti del buio ma accendi luci. Ecco, in questo momento accendere luci di speranza nella vita di questi fratelli, come si sta facendo anche in tante parti della nostra di oggi, come ha fatto anche il nostro Vescovo che ha mandato un pullman a prenderne una cinquantina, che sono nelle diverse realtà. Anche noi come Rocella abbiamo messo questa casa a disposizione. Ecco, questa casa che è dedicata al professore Cappelleri, una casa che ha aperto le porte e non è la prima volta, dobbiamo dirlo, perché nel momento in cui è stata l'emergenza dei minori non accompagnati, sbarcati al Porto delle Grazie di Rocella Ionica, questa casa si è aperta, ha dato l'opportunità a questi giovani di vivere, di rimanere protetti e sotto un tetto per diverse settimane. Mimma Pacifici, com'è che siete riusciti a coinvolgere questo gruppo? Perché poi si tratta di un bel gruppo, anzi io direi di un gruppo nutrito. Sì, no, è stata una cosa che diciamo che è stata spontanea, perché penso che in questo momento, rispetto a quello che sta succedendo lì in Ucraina, devo dire la verità, la mia prima cosa è stata quella di partire, mi veniva proprio voglia di prendere il pulmino, lo dicevo, alle amiche ucraine roccellesi. E di andare lì. E di andare lì, andare lì ad aiutarli, dicevo partiamo dai, io guido, quindi non mi spaventava neppure la cosa di partire. Magari andare lì e manifestare, che poteva essere una cosa... Più rischioso. Più rischioso, ma penso che era l'unica cosa. Andare lì, mani alzate per dire tutto, tutto, mamma ci vuole, tutte le persone di buona volontà di questo mondo, forse non ci avrebbe sparato a tutti, non ci avrebbe ammazzato, non lo so. Però questa è stata la prima cosa. Poi abbiamo detto, cosa possiamo fare concretamente? Diamo una mano al padre Francesco, diamo una mano e lo abbiamo fatto insieme a tutto questo gruppo meraviglioso di Rocella, che è stato un gruppo spontaneo, che si è unito. Abbiamo fatto una chat dove ora ce ne sono tantissime, ce ne sono altri che vorrebbero entrare. La miglioreremo ulteriormente, noi non ci siamo, noi vogliamo che loro vivino qua serenamente, che insomma trovino anche quel comfort bene o male che avevano a casa loro. Quindi lavoreremo, la miglioreremo insieme a loro, insieme a loro ormai con quelle che vivono qui passiamo intere giornate. Ad ascoltare qualche storia, ecco, qualcuno diceva io non parlo bene l'italiano, però ci capiamo. Qual è la storia più difficile fra quelle che hai ascoltato, le tue connazionali? Che sono venute da Kiev, proprio dove... Chi è venuto da Kiev? Questi ragazzi qua. Il signore? La mamma con tre figli. Il papà è rimasto lì? Il papà è rimasto lì perché adesso uomini che hanno 60 anni, non possono più di 60 anni, possono uscire dall'Ucraina, quelli che fino a 60 anni no. Ora com'è la situazione? Si sente per telefono, chiede al suo figlio, riesce a parlare con il suo figlio? I suoi parenti dicono che la casa è ancora sana, diciamo il palazzo sano, però vicino c'è un paese che si chiama Bravary, combattono tantissimo. Lei ha 10 anni, fa la terza, la quinta elementare. I tuoi compagni ora che fanno? Qualcuno fuori città e qualcuno fuori paese proprio. Tu quanti anni hai? Quanti anni hai? Ah, sei maggiorenne quindi. Vai a scuola, andavi a scuola? Università. Università. E io studiai a università. Che cosa studiavi all'università? Facoltà? Computer e Ingegneria. Chi per abbiare la specialità? Quindi informatica diciamo, sì, security. Informatica. Ti piaceva molto, l'università è chiusa ora, sclosa. Da. Tu hai lasciato i tuoi amici, i tuoi compagni? I tuoi compagni della università vivono nel bunker e non possono uscire. Nicola, i tuoi compagni, pure loro nel bunker? Perché lui prima di partire, di cominciare la guerra ha cambiato la scuola. Quindi ha cambiato scuola, Nicola, prima di partire, prima di iniziare la guerra? Speriamo che la guerra finisce presto, tutti si dicono che non dura tanto, che i nostri vincono questa guerra. E ancora puntate a vincere? Certo che noi o vinciamo o non moriamo, l'altro non si può perdere. Come siete stati accolti qua in Italia? Ancora non hai imparato l'italiano. Come siete stati accolti? Grazie, grazie, grazie. Prima è molto bene. Voi avete comportato molto bene e mi trovo benissimo.